Dare spazio ai talenti offrendo un percorso di formazione a cura di professionisti della musica è uno degli obiettivi del concorso le note del cuore organizzato dal consiglio regionale e gemellato con la nazionale italiana cantanti e la partita del cuore. Proprio alla formazione è stato dedicato il pomeriggio che i vincitori dell'edizione 2022 hanno trascorso all'Hiroshima Monamour di Torino in occasione delle prove generali del concerto dei Little Pieces of Marmalade. Dopo essersi esibiti lo scorso settembre con i loro inediti Il Sogno del Cuore e Tutto Cambierà davanti al pubblico The You Power Stadium di Monza alla partita del cuore 2022 i giovani musicisti vincitori sono stati accompagnati da Giulio Graglia autore e regista televisivo e da Daniele Ciuffreda e Francesco Antinori componenti dei Little Piece of Marmalade in un percorso di approfondimento sulle tematiche e le modalità più rilevanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo. È un grande lavoro quello che viene fatto dietro a un'ottima realizzazione di un concerto e sicuramente questa è un'occasione per capire sul campo come vanno applicate cose che si studiano. Durante l'incontro i ragazzi hanno potuto confrontarsi con tecnici e professionisti del mestiere sulle sfide legate al proprio percorso artistico rivolgendo domande su come avvenga la messa in scena di un concerto live elementi scenici, effetti speciali, tecnica audio e video osservando in diretta tutto quello che avviene nel corso di un soundcheck prima di un evento dal vivo. Montaggio tecnico, audio, luci, video. sugli strumenti magari sul computer o cose più tecnologiche diciamo? Io faccio hip hop barra latino, diciamo un sottogenere del latino cioè che si chiama dembow. Tra poco inizieremo di nuovo a metterci sotto a trovare qualche idea.